E' grande, è bellissima. E allora? Ti sei trasferito? Sì, sì, quasi. E' a casa tutto a posto. Che c'è qualcosa che non va? No. Lei mi ha fatto un contratto per una casa che è occupata. Lo sapeva, vero? Dove vado io a dormire stasera? Ah, dove vado io a dormire? Almeno, dimmi come sono fatti. Erano tutti truccati, vestiti... Trans. Allora sono trans. Sto andando a fare un provino. Ma perché tu fai l'attore? Ci prova. E va beh, in bocca al lupo allora. Ma veramente? Allora, a me serve questa lettera di sfratto. L'hai visti di nuovo? Questa è casa mia, sono nella mia vasca. Siete voi che dovreste andare via, ma anche proprio di casa? Adesso il signore ci aiuterà ad uscire di qui, vero? Qual è il piano? Che li ha aiutati, è stato torturato e ucciso. La menzogna alle volte può essere convincente. La realtà lo è molto di più. Queste persone che dice di vedere a casa sua, cosa fanno? È così buio quel barco che ci si vede solo con le dita. È un sesso Braille. Ma perché non glielo dice? Perché non gli dice la verità? Senta Pietro, in che anno siamo? E gli italiani sono liberi? Liberi, liberi proprio. È come se non mi riconoscessi. Non mi sembro io. Perfetto. Lei deve sparire. Perfetto. 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 Perfetto.